Il valore della legalità. E cos'è? Legalità è la regola e le regole. Perché garantisce dei personali e del rispetto del bene comune? Come? Si realizza attraverso la solidarietà e la giustizia. Quando? Sempre. Chi deve rispettare il valore della legalità? Tutti. E in quale ambiente, dove? Nel lavoro, nella vita privata, familiare e sociale del cittadino. Nell'ambito dei servizi stituzionali. Scuola, sanità, istituzioni politiche. Nello sport e in tutte le attività ricreative e artistiche. Ma le violazioni della legalità cosa avvengono? Disagio sociale e inquietudio. Soprattutto nei giovani. E vivere una legalità? L'azione di ognuno in funzione del bene comune. E rispetto per la dignità di tutti.